Lei Fortnite, ma lo sapete che io ci penso ogni tanto, ma no, c'è, c'è, aspetta, adesso, Anna chiedono di riportare Fortnite, tu lo so che, buonasera, vuoi giocare a Fortnite, perché, magari è bello, adesso, c'è due, tre anni che non ci giochiamo più, dai, allora è diventata una macedonia, ma è sempre stata una macedonia, io già non ci capivo niente quando bisognava costruire, figurate adesso che c'è le macchine, ma tu non costruisci, Tu vai lì e spari e basta, e non costruisci, e ci muori, perché sei scarso se non costruisci, ti infili e ci spugli, ma che vanno regalato per Natale, zitto, io voglio sapere cosa gli hanno regalato per Natale, voglio sapere tutte le cose che vanno regalato per Natale, tutte le voglio sapere Ok, allora io intanto sposto C così, sentiamo che cosa ne pensa lui, eh Vuoi giocare a Fortnite? Al diavolo insieme! No, tu dici sempre che non ci vuoi giocare! Ma tu dici sempre di no! Allora, abbi il coraggio di dimostrare il tuo pensiero, io ho detto no! Ma magari divertiamo, possiamo provare un giorno, eh! Allora, posso dire la mia? Sì, sì, sì! La mia è una, allora, io riesco a divertirvi in qualsiasi gioco, qualche carte! Sì, è vero questo, eh, è vero, è vero! Se sei in compagnia ci si diverte! Finché non bisogna giocarci sei ore di fila, lì capito? Sì, no, no, sei ore di fila un gioco, guarda, neanche Minecraft riuscirei sei ore di fila, eh, probabilmente! Forse a minare! Ah, io sono aperto a qualsiasi esperienza al volto, vai, vai, giochiamo a Fortnite! Ma cos'è successo nel nuovo capitolo? Perché so che è uscito il capitolo nuovo, hanno cambiato... Ehi, c'è Spider-Man e The Rock! Ma chi se ne fre... Ma è The Rock! The Rock mi piace, in gamba! The Rock lo voglio! Ma puoi essere The Rock? No, questo è serio! Ma papi, se voglio, usci! Ma puoi, ho chiesto, puoi, puoi essere The Rock! Ah, penso di sì, con la skin, bu! Si può essere The Rock? Si può essere The Rock, chat, sapete? Non sono informato! Io sono The Lion! Bellissimo, anche più! Dicono che si può essere The Rock! Ah, bello! Si può fare! Un giorno, dai, possiamo farlo un giorno! Mi piace The Rock a me! Sì, anche Spider-Man non è male! Eh, qual è che ho le natelle pure, c'hai? Eh, bello! Ma come le ragnatelle, ma non si spara su Fortnite! Puoi sgabirrare dappertutto! Diventa un eroe vero, inizia a sparare agli ateli, c'è Venom che magna tutti! Bello! Quello roso, Cardi, c'è... Beh, allora, stai zi! Ma la volta stai sparando su... Devo far vedere le novitizie!